Ciao, mi chiami? Mi chiamo Fabrizio. Da dove vieni? Vengo da Genova. Che lavoro fai? Gestisco un supermercato. Cosa ne pensi di questo seminario? Che è stato un malo seminario, con tante cose belle, abbiamo imparato e appreso cose buone. Il suo sistema. Quali benefici hai trovato nell'equipo? La funzionalità, che lo possono fare e praticare tutti perché non ha tante cose, sforzo fisico, calciate e cose del genere. E un buon sistema di combattimento e si apprende abbastanza velocemente.